Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, insieme alla presidente del Consiglio Comunale Vincenza Amato, ha incontrato questa mattina una delegazione di rappresentanti del popolo Saharawi. Durante l'incontro, il sindaco Manfredi e la presidente Amato, sulla scorta dell'ordine del giorno approvato in Consiglio Comunale nei mesi scorsi, hanno ribadito il forte sostegno dell'amministrazione comunale e di tutta la città di Napoli al popolo Saharawi, ribadendo gli affettuosi sentimenti di stima e di fratellanza che contraddistinguono da sempre i forti legami tra le nostre comunità. Il sindaco Manfredi ha anche ricordato la particolare vicinanza e solidarietà di Napoli verso il popolo Saharawi, che lotta per il suo diritto alla libertà e all'autodeterminazione.